Due pali della telefonia di Velti, un cavo pendente per decine di metri a correre lungo un intero terreno di proprietà privata. Rossini TV torna ad accendere le sue telecamere sulle segnalazioni di voi telespettatori e in questo caso di residenti delle colline di Santa Veneranda in strada Fonte Maiano. Era infatti il 2 dicembre scorso quando una forte perturbazione di vento si abbatté sull'intera provincia causando diversi danni. Nel caso di Santa Veneranda pali della telefonia abbattuti, cavi penzolanti e più di un mese senza telefonia fissa, linea internet e sistema di videosorveglianza fuori uso. Abbiamo fatto decine di segnalazioni e purtroppo non abbiamo avuto nessuna risposta fino ad ora. Perciò abbiamo questi fili e i pali pendenti che purtroppo danno anche fastidio perché il terreno deve essere coltivato però non riusciamo purtroppo a passare sotto con i mezzi. Siamo stati tre settimane e mezzo senza internet, senza telefonia e di conseguenza poi il fisso era il telefono di mia madre che è un'anziana con le sue problematiche e di conseguenza non poteva comunicare con nessuno. Ripristinata la linea però questi cavi sono ancora pendenti e vogliamo sapere e capire quanto ancora dobbiamo aspettare per avere un ripristino della linea, praticamente di non avere più questi fili pendenti. Il signor Spadoni mostra gli appunti delle decine di chiamate fatte alla team e delle risposte parziali ricevute. Il ripristino della telefonia c'è stato ma un mese dopo all'inizio del disagio e alle richieste di intervento. Sulla sistemazione di infrastrutture quali pali e cavi i tecnici però non hanno potuto far altro che allargare le braccia rimandando tutto a diverse competenze. Non era loro competenza perché il tecnico era solo per i guasti dei fili praticamente e il resto è rimasto tutto così. I residenti attendono già da più di tre mesi e si domandano quanto ancora bisognerà aspettare per riparare al disagio subito. Ma il giorno dopo, neanche dopo due giorni, neanche dopo un mese, qua nessuno si fa sentire. Le telefonate arrivano sì, ma per i vari messaggi dei prezzi, delle varie offerte che fanno. Ma al momento che dicono al posto di telefonare per le offerte sarà meglio che mettete a posto la linea. La linea viene chiusa, interrotta, viene proprio interrotta immediatamente. Grazie!